Guarda come alcune persone fanno giocare o bruciano i carri di qualcuno solo perché magari sono gelosi non lo so è molto bello molto bello però io magari domani mi alzo voglio comprarmi un alambo lo faccio, tu rimani là con la chiave in mano così e guardi con la chiave della cantina